eccoci qui collegati buon pomeriggio a tutti buon venerdì sera e siamo in compagnia di Jacopo Fiaschini e quindi di Fontobel ciao Jacopo buonasera ciao per Paolo buonasera a te buonasera a tutti gli spettatori bene Jacopo allora oggi per questo finire di settimana arriviamo proprio come si vuol dire con il timing giusto perché parleremo come sempre di soluzioni sul secondario e quindi vedremo assieme delle idee selezionate dal nostro ufficio studi ma il tema principale di oggi è proprio il nuovo strategic certificate sull'inflazione e quale migliore occasione per parlarne se non ho proprio oggi che è uscito il dato sull'inflazione più alto degli ultimi 40 anni negli Stati Uniti e quindi ecco dopo andremo a vedere di cosa si tratta e in particolare ci spiegherai anche un po il funzionamento si tratta di uno strategic certificate quindi da non confondere con un tracker corretto esattamente due caratteristiche semplici differenze tra il tracker e strategic tracker possono avere scadenza e non avere scadenza e l'indice sottostante è gestito in maniera non discrezionale e passiva mentre gli strategic sono senza scadenza open end e l'indice sottostante è gestito discrezionalmente attivamente e quindi c'è una gestione attiva del sottostante e vedremo poi ci hai preparato un bel po di cose da vedere naturalmente ricordo che il webinar è in fase di registrazione pertanto il lunedì sarà già disponibile per chi vorrà rivederlo chi magari non può partecipare all'intero incontro e siamo qui a disposizione anche per rispondere alle domande come sempre da quando ormai svolgiamo questi webinar sapete che cerchiamo di dare risposta a tutti poi chiaramente se ci sono domande di interesse comune le leggiamo le cerchiamo di rispondere immediatamente se chiedete un'analisi di un prodotto cerco di fare quanto possibile non essendo preparato perché mi date l'hising in quel momento quindi cerco di fare il quanto è possibile se sono domande su cose un pochino più particolari lo spread quel giorno non sono riuscito a comprare un certificato eccetera naturalmente poi io la leggo a jacopo ma probabilmente è più utile che voi chiama chiamiate direttamente fontobel e quindi poi facciate presente questa cosa va bene allora fra poco andrò a leggere le varie domande che ci sono e già ad esempio c'è subito una domanda di roberto che saluto che dice quali sono i titoli nel basket ne parleremo no ne parleremo diffusamente fra poco prima però jacopo mi permetti come sempre di chiudere cioè di aprire il webinar con la chiusura di breve commento di chiusura di mercato questa è un po' la situazione attuale dei contratti future pertanto vediamo segno rosso oggi per tutte le piazze europee a chiusura di una settimana che è stata abbastanza volatile arrivavamo insomma da performance molto negative poi bei rimbalzi oggi tutto sommato si sta chiudendo in maniera tranquilla almeno per quello che riguarda l'italia con un meno 0 30 ma in genere un po' tutta l'europa negli stati uniti invece c'era un segno molto più verde fino a quando è uscito il dato sull'inflazione che ricordo è un dato molto sorprendente non tanto nella nel fatto che sia superiore alle attese ma quanto superiore all'attese perché dicevo è il dato più forte agli ultimi 40 anni 6,8 per cento di inflazione anno su anno il che vuol dire rispetto a quello che era il 2020 ed è un dato molto molto forte e trainato principalmente dalla componente energetica anche da altre voci ma principalmente da quella e quindi ci troviamo in presenza di un dato che costringerà molto probabilmente la fed nuovamente a cambiare atteggiamento e probabilmente a una stretta un po' più rapida rispetto a quello che era dopodiché ci siamo già abituati negli ultimi mesi a dei repentini cambi di di tendenza però il dato di oggi effettivamente è un dato forte che ha causato comunque degli scossoni anche ad esempio sulle criptovalute che potrebbero essere in qualche modo un asset su cui puntare in uno scenario fortemente inflattivo c'è stato un immediato forte rialzo da parte della criptovalute e poi un ritorno alla base in un contesto che sta avvenendo in questo momento comunque della negatività diffusa e è tornata la volatilità è tornata la volatilità su eh anche su titoli tecnologici in particolare perché ad esempio vediamo come oggi dopo due o tre giorni di rimbalzo si cominciano nuovamente a vedere i meno sei meno sette Bionmit è un titolo di cui abbiamo parlato spesso sta perdendo in questo momento il sette e quarantatré per cento e la stessa cosa lo sta facendo Moderna anche se ha dimezzato il calo da inizio seduta perdeva il dodici per cento Biontech altro titolo molto negativo meno otto e sessantasei tra l'altro oggi l'amministratore Biontech insomma si è lasciato andare a delle considerazioni sull'esigenza di una terza e quarta dose anche per fronteggiare eh la variante Omicron e ma comunque in generale ecco sto guardando da questa parte insomma vedo dei segni Coinbase stessa quindi per criptovalute meno cinque e ancora performance negative Tesla ha arginato un po' i cali questo momento ha recuperato meno zero eh più zero trentasette per cento quindi è tornata la negatività eh nuovamente sul sul settore tecnologico americano ma quello caratterizzato da maggiore beta per quanto riguarda le performance di questa settimana nonostante il segno rosso eh di oggi timido comunque non intacca il buon rialzo settimanale che è del tre per cento circa ad esempio per nella nostra piazza affari e in linea più o meno anche il caccarant piuttosto che l'eurosox cinquanta e tre punti percentuali sono stati guadagnati anche dagli indici americani quindi chi magari in un giorno chi l'altro comunque si sono allineati a questa dinamica come dicevamo tema inflattivo molto importante e questo è il l'argomento di cui parleremo condivido con voi solo un'ultima eh analisi che riguarda anche un po' quello che può essere il momento di mercato in questa in questo grafico abbiamo rappresentato la percentuale di titoli dell'SMP cinquecento che quotano con un prezzo superiore alla media mobile a cinquanta giorni ma questa è una un'analisi è un indicatore che ci dà la misura di quanto forte sia il mercato di quanto contributo arrivi al mercato da parte dei titoli di un indice ad esempio sul Nasdaq abbiamo visto come negli ultimi sei settimane sia costantemente diminuito il numero di titoli che eh quotava al di sopra della propria media mobile a trenta e a cinquanta giorni questo a dimostrazione del fatto che man mano la gran parte dei titoli si è indebolita e quindi questo anticipato poi effettivamente anche un po' di debolezza generale anche se lì continuano ad esserci le mega cap che trainano il il cammino e l'indice per quello che riguarda l'SMP cinquecento lo vediamo che un livello molto basso di titoli con un prezzo superiore alla media mobile è stato raggiunto proprio sul precedente minimo quindi il primo di dicembre quindi una decina di giorni fa e questo livello tra l'altro è stato solamente avvicinato corrisponde anche al supporto che è stato toccato proprio da questo da questo rapporto nei mesi scorsi a partire da settembre del duemilaventi quindi tutte le volte si è arrivati da quelle parti poi i titoli hanno comunque trovato una reazione e hanno permesso all'indice di risalire questo a dimostrazione del fatto che in questo momento ci troviamo comunque in una situazione dove è giusto avere un po' di prudenza un po' di cautela però il trend non mi sembra ancora assolutamente intaccato quindi volatilità sì ma solo da sfruttare e questo è un altro tema di cui in questi giorni sto parlando spesso e mi fa piacere condividere anche con te Jacopo ovvero il fatto che quando la volatilità si affaccia oltre i 28 30 punti almeno in questa fase è più un'opportunità per iniziare a mettere certificati in portafoglio se ancora non lo abbiamo fatto piuttosto che scappare e cominciare a farsi prendere dall'irrazionalità e dall'emotività questo perché la volatilità lo vediamo è già arrivata un 32 33 per cento poi è tornata rapidamente indietro e quindi i certificati ne hanno beneficiato anche in maniera rapida detto questo tema inflazione ci sono diverse domande che a cui naturalmente fra poco andrò a rispondere e visto che adesso ecco siamo al gran completo vedo il numero di partecipanti oggi non so perché è brutto tempo o perché l'interesse sta crescendo però siamo veramente tantissimi ti vado ad assegnare il controllo del monitor e quindi Jacopo ti chiederei di iniziare a raccontarci tutto quello che sai e quello che dobbiamo sapere sul tema inflazione e sul nuovo strategic certificate sì intanto interessante lo spunto sulla volatilità perché ne parlavamo giusto da poco è tendenza proprio del mercato italiano lo riscontriamo che con i picchi di volatilità e con qualche discesa c'è un riscontro positivo del mercato quindi gli investitori hanno capito che è un buon momento per comprare in determinate situazioni perché anche a parità di condizioni per i sottostanti c'è questo apprezzamento dovuto proprio alla volatilità e questo mi fa piacere perché significa che veramente gli investitori ormai sono consapevoli del prodotto e conoscono il prodotto soprattutto parliamo di condizionatamente protetto il prodotto in tutte le sue sfaccettature e questo ci fa molto piacere passando al discorso inflazione non potevamo scegliere giorno migliore nel senso che come dicevi giustamente è arrivato questo dato preoccupante già da qualche settimana Powell era tornato sui suoi passi questo termine transitoria che è stato utilizzato mal utilizzato mal interpretato erano state fatte varie speculazioni dietro questo termine transitoria siamo andati anche un po più come dicevo stamattina sul campo della semantica perché poi Powell era tornato sui suoi passi dicendo che per transitoria non intendeva veloce cioè di passaggio ma che passando non avrebbe lasciato troppe conseguenze dietro di sé ok c'è stata un po' di confusione penso sia chiaro per tutti che la situazione di a livello di inflazione sia abbastanza preoccupante e ce la dovremmo portare dietro per un po più di tempo di quanto preventivato sei d'accordo per sì beh questo direi che ormai credo che anche la stessa lo stesso Powell sia consapevole tanto per proprio la scorsa settimana eliminato dai propri discorsi questo il termine transitorio insomma si è reso conto detto questo è anche vero che poi ci sono dinamiche come quella energetica che hanno visto insomma nella proprio la settimana scorsa in ultimi 15 giorni il petrolio perdere il 15 per cento e alcuni hanno iniziato a dire beh allora a questo punto forse questa inflazione non sarà più così alta ecco non è così immediato non è che scende il petrolio immediatamente diminuiscono i prezzi energetici sappiamo che la reazione è molto più lunga però certo sono sono naturalmente per quanto è in mia conoscenza sono d'accordo sul fatto che mi sembra che sarà un tema che ci accompagnerà detto questo dobbiamo sempre prendere come riferimento cosa il due per cento che è un po il target sia da statuto bce ma anche un po l'obiettivo meno stringente da parte della fed per quello che riguarda gli stati uniti e un 6,8 che è figlio di una crescita economica acceleratissima e passatemi il termine drogata anche da un dei iniezioni monetarie da parte della fed probabilmente se ci si attesterà intorno a quel 4,2 4,8 sarà comunque un dato molto alto però decisamente più sostenibile però questo ecco necessiterà di più tempo quindi sì d'accordo che sarà sicuramente non forse così transitoria ma ci si potrà convivere no ecco e qui forse anche entrare un po in gioco sui vari temi ecco quali sono ad esempio i settori che potranno per tenere meglio anche in uno scenario inflattivo esatto e a proposito di quello che dicevi ne parlavo anche in altri appuntamenti ma ritengo sia interessante fare specificare una cosa c'è un articolo molto interessante del sia io della nostra divisione di wealth management che dice che l'inflazione è come il colesterolo nel senso che c'è colesterolo buono e c'è colesterolo negativo non non è che il termine inflazione sia di per sé negativo anzi come ricordavi i target inflattivi rimangono sempre intorno al due due e mezzo per cento perché paradossalmente è più problematico per un sistema una situazione di deflazione rispetto che a una situazione di inflazione positiva chiaro è che deve essere sotto controllo quindi gli estremi fanno male ma esattamente un giusto quantitativo di inflazione permetteteci questa metafora è un po come il colesterolo buono che serve a ripulire il sangue e molto interessante questo articolo un po ardito però penso azzeccato no no sono da che e devo dire la metafora che non avevo letto e quindi è effettivamente azzeccata no però l'altro tema importante è proprio quello della fuori controllo no perché poi la fed secondo quello che abbiamo visto anche negli ultimi mesi com'è riuscita poi a mantenere un livello di di tensione sempre molto bassa nonostante il fatto che si sia arrivati a questi valori così alti proprio perché ha dimostrato comunque di tenere sempre tutto sotto controllo cioè il rischio era effettivamente che da un giorno all'altro scoppiasse un dato sull'inflazione molto molto più alto ma senza che la fed avesse già iniziato a parlare di di tapering e di rialzo di tassi e di misure a contrastare il tutto invece si è comunque dimostrata sempre molto pronta anche nelle parole perché poi lo sappiamo che a volte più dei fatti contano le parole e quindi questo ha contribuito anche a far stare gli investitori un po' più tranquilli anche oggi tutto sommato è uscito un dato il più forte degli ultimi 40 anni è vero che il confronto con il 2020 era un confronto anche qui forse senza precedenti perché il 2020 è stato un cigno nero che non avevamo probabilmente vissuto neanche in epoca in epoca Lehman però quindi è tutto troppo nuovo per avere dei precedenti però un dato così forte non mi sembra abbia creato tutto questo sconquasto sul mercato sì alcuni titoli ma stavano già perdendo gli altri hanno ceduto leggermente ecco si è visto un po' di denaro su esempio alcuni settori dei consumi di cui parleremo probabilmente anche che sono quelli che possono essere un pochino più avvantaggiati da uno scenario più inflattivo ecco forse abbiamo visto più denaro confluire su alcuni titoli che denaro uscire in massa da altri questo è un altro tema che abbiamo osservato oggi esatto poi almeno l'ultimo dato anche a livello di richieste di sussidio per i disoccupati non è stato così allarmante quindi ecco sì come dicevi il confronto con il 2020 è difficile eh almeno stanno iniziando ad arrivare segnali leggermente più positivi dal mondo del mercato del lavoro comunque il dato è c'è è quel 6 e 8 è quel record di cui parlavi e quindi è giusto parlarne ora per entrare un attimo nel merito eh è da un po' che ci stiamo lavorando a questo prodotto che è andato in quotazione da oggi con un giorno di ritardo perché doveva essere acquistabile ieri ma è acquistabile da oggi ehm è stato un bel progetto ci abbiamo lavorato pensando proprio di proporre per la prima volta un prodotto ne abbiamo già parlato in altre occasioni per Paolo noi di solito portiamo dei tracker o strategic certificate molto di nicchia che seguono micro o mega trend in ottica di diversificazione di portafoglio in ottica di riduzione della volatilità complessiva riduzione del drawdown per andare a beneficiare di soluzioni anticicliche da inserire all'interno di un portafoglio con una certa percentuale in questo caso abbiamo lavorato a una soluzione più core abbiamo lavorato a una soluzione più core pensando alla situazione al momento che stiamo attraversando ora come ci siamo arrivati lo sappiamo bene covid eh pacchetti di stimolo enormi con eh che non sono poi stati riversati nell'economia reale eh interruzioni della produzione eh maggiori risparmi aumento della domanda con offerta che non è riuscita a stargli dietro colli di bottiglia escalation delle materie prime e un mercato del lavoro abbastanza contratto questa è la situazione che ci portiamo dietro e la possiamo definire un po' lo status quo questa è la presentazione che eh potete tra l'altro trovare all'interno del nostro sito è in home page c'è un banner che indica proprio l'articolo c'è l'intervista del gestore dell'indice sottostante al certificato di cui vi sto per parlare quindi materiale ce n'è c'è anche questa presentazione che potete scaricare e è un po' datata perché è passato per la sottoscrizione eh un mese fa in Svizzera e in Germania quindi ho dei dati più aggiornati e poi soprattutto andremo a vedere le pagine per entrare nel dettaglio dell'indice comunque la situazione è questa eh siamo ritrovati ci siamo ritrovati in questa situazione difficile e questa riteniamo sia una situazione difficile da gestire per chiunque a livello di proprio portafoglio è una situazione difficile da gestire ma sicuramente è quello che pensiamo e che speriamo di riuscire a fare è più facilmente gestibile da noi ed è per questo motivo che eh ci siamo fatti carico di gestire attivamente l'indice sottostante a questo strategic certificate sull'indice chiamato inflation influenced index ora già il nome eh è un po' particolare perché ci abbiamo ragionato un po' su lo chiamiamo anti inflazione eh vari nomi erano stati paventati ma siamo arrivati a inflation influenced perché perché è quello che rispecchia meglio la strategia eh sottostante a questo indice entriamo nello nello specifico e passiamo oltre a quella che è la situazione che ci siamo ritrovati ehm vorrei farvi vedere questa slide ora l'inflazione è vero che abbiamo fatto tutto questo discorso e noi ci concentriamo spesso eh chiaramente e teniamo come punto di riferimento gli Stati Uniti ma eh le situazioni a livello di inflazione possono cambiare su scala globale chiaramente ora per esempio oggi è uscito il dato USA e siamo al 6,8 year on year quindi rispetto all'anno scorso per l'Europa siamo intorno al 4,9 se non mi sbaglio per Paolo sì ma poi ci sono situazioni come ad esempio eh il Giappone che ha un consumer price index in crescita è tornato positivo al più 0,1 rispetto all'anno scorso la Svizzera con un più 1,5 rispetto al novembre dell'anno scorso quindi l'inflazione esiste eh su scala globale sicuramente ma esiste anche su scala regionale quindi il primo pensiero nostro nella costruzione di questo indice è stato proprio questo facciamo tre scenari lo scenario in cui non c'è inflazione eccessivamente alta in generale su tutti i mercati in tutti i paesi quindi questo è lo scenario che vedete di bassa inflazione poi uno scenario in cui a seconda dei mercati l'inflazione è più alta da qualche parte più bassa da qualche altra da qualche altra parte e l'ultimo scenario invece scenario in cui a seconda chiaramente dei pesi della location che eh andiamo a proporre l'inflazione è ritenuta eccessivamente alta proprio su scala globale ponderata e quindi a quel punto prendiamo gli ultimi provvedimenti ma partiamo dall'inizio lo scenario base quindi dove l'inflazione non ci preoccupa essenzialmente ci posizioniamo su un portafoglio che ricalca a livello geografico la location del più conosciuto MSCI World Index eh l'indice penso più diversificato e tranquillo passami il termine che si possa mettere all'interno di un portafoglio di questo indice però noi siamo andati a ricalcare esclusivamente almeno in gran parte la location geografica quindi la suddivisione per paese come potete vedere si parte da un 60% Stati Uniti 15% Eurozona 15% Giappone e 10% Svizzera questa allocation però di partenza è stata fatta con un ulteriore criterio il criterio il criterio che noi chiamiamo di pricing power quindi potere di determinazione dei prezzi da parte delle aziende che andiamo a selezionare quindi viene fatta una preselezione qualitativa prima di tutto grazie ai nostri analisti eh in Svizzera una valutazione sui fondamentali di un'azienda e quindi mi riferisco soprattutto ai margini in situazione in contesti inflattivi cioè aziende che potrebbero non dico beneficiare ma essere più resilienti di altri di altre in contesti di elevata inflazione quindi chi lavora con margini più elevati è in grado poi di scaricare il costo con più eh con più facilità dopodiché ancora più importante il potere del marchio di un'azienda perché al di là del settore in cui opera se il marchio è forte un cliente di questa azienda è meno probabile che faccia meno di quel prodotto o servizio anche in contesti in cui i prezzi stanno salendo eh tutto questo ci porta queste valutazioni fondamentali eh quindi qualitative a livello di forza del brand e a livello di posizionamento geografico anche perché è chiaro che per il discorso fatto prima un'azienda che opera su scala globale eh soffrirà meno in situazioni di inflazione regionale quindi un'inflazione specifica per un mercato quindi fatta questa valutazione ci porta questa valutazione ci porta a selezionare le aziende a seconda di quello che è il loro pricing power perché tutte queste aziende che seguono i criteri dettati da dai nostri prerequisiti sono aziende che hanno questo potere di determinazione di prezzi e riusciranno almeno in backtest è andato così riescono a superare eh momenti più complicati eh in situazioni in cui i prezzi stanno salendo questa è la location di base successivamente cosa succede? Succede lo scenario di cui parlavo prima che l'inflazione è diversificata da paese a paese da mercato a mercato quindi eh facciamo un esempio in cui come quello attuale ad esempio in cui l'inflazione in America diventa allarmante diventa allarmante ma per esempio nell'eurozona è tutto tranquillo è è è un discorso paradossale perché sono due mercati abbastanza interconnessi chiaramente però ehm l'eurozona rimane con un'inflazione più sotto controllo la Svizzera allo stesso modo e il Giappone allo stesso modo in questo primo scenario intermedio cosa succede? Si rimuove un venti per cento di equiti americana e si va a riposizionare in base ai segnali più bassi di inflazione su scala regionale. Questo è il primo step. L'ultimo step invece che poi tra l'altro lo andiamo anche a vedere è quello che stiamo vivendo oggi perché l'inflazione ha generato un segnale per i nostri portfolio manager che ci ha spinto ad arrivare da subito a partire da subito con l'indice con una location di questo tipo quando il segnale di inflazione su scala globale diventa per noi allarmante da cento per cento equiti si rimuove il venti per cento quindi si rimane con l'ottanta per cento su equiti e il venti per cento si va a posizionare direttamente su commodity non quell'ottanta per cento non deve poi rimanere secondo lo scenario base ma segue sempre il criterio di inflazione regionale quindi e poi ora lo andremo a vedere guardando la setta location è possibile anche che si riduca e di molto la percentuale di azioni americane si posizioni su europa o svizzera o giappone e contestualmente si vada a ridurre tutta la location equiti dal cento all'ottanta per cento per posizionarci su etf che replichino indici di commodity questa è la strategia non so se pier vuoi aggiungere qualcosa allora ci sono delle domande nel frattempo molto brevemente ma ti ripasso immediatamente il monitor volevo far vedere quanto dicevi a proposito dell'inflazione nelle varie nei vari nelle varie aree e quello è quello che insomma alla situazione attuale vediamo il 6,8 per quello che riguarda gli Stati Uniti 4,9 da noi quindi confermato quello dicevi prima in Giappone vabbè 0,1 il target 2 poi Inghilterra 4 Gran Bretagna 4,2 e così via e quindi questo anche un po' rispetto alla situazione no quindi quanto pesa effettivamente nei vari paesi quindi questo volevo farlo vedere solo rapidamente dunque sicuramente ci saranno domande alle quali risponderai anche implicitamente cioè senza che io ti faccia la domanda però intanto ti leggo così tu sai di cosa devi parlare innanzitutto qual è il livello di allarme quindi abbiamo detto no se sale troppo qual è il livello di allarme e se vale per tutte le regioni e quindi quando è che lo scenario viene considerato da base a medio fino ad arrivare ad alto poi ci chiedono se l'investimento è a leva e su azioni o su derivati ma questo insomma ce lo spiegherai fra poco ogni quanto si ricalcola la composizione del portafoglio anche questo sono sicuro che li darai e poi se un'azienda come Ferrari si può considerare con un alto pricing power ad esempio questa è una domanda e poi insomma vai ok allora non me le ricordo ma tanti punti li toccherò in ogni caso per quella la prima che a cui volevo rispondere è quella dei segnali il segnale parte il primo segnale di inflazione regionale è quando l'inflazione in almeno un paese raggiunge il due o tre per cento year on year mentre secondo la location ponderata in base ai pesi dati a ciascun paese raggiunge il quattro o cinque per cento complessiva di portafoglio lì ci si va a riposizionare come nell'ultimo scenario questi sono sono i parametri chiaramente essendo e vado anche a rispondere alle altre essendo un uno strategic certificate con un team di portfolio manager che si occupano della gestione attiva e quindi non c'è un ribilanciamento programmato ma è discrezionale quando il portfolio manager ritiene sia opportuno intervenire sull'indice interviene sull'indice e questo ritengo sia molto importante perché ci fa essere lì quando c'è bisogno e quindi essendo un certificato di questo tipo gestito attivamente avviene questo ribilanciamento e quindi si sottostà a quelle regole generali che possono sembrare più meccaniche ma così non è perché lo potrebbe fare benissimo anche un computer poi viene lasciata discrezionalità al portfolio manager di agire secondo il suo know how chiaramente. ora non me le ricordo le altre domande che secondo me poi erano domande alle quali avresti risposto implicitamente ma poi mi ricordo mi ricordo la leva e quindi andrei un attimo perché perché per ora abbiamo parlato di quella che è la strategia dell'indice sottostante non abbiamo parlato della cosa paradossalmente più semplice che è il prodotto perché lo accennavi tu per paolo strategic certificate il nome non è ancora entrato a far parte della realtà perché siamo partiti con i tracker si conoscono i benchmark ma stiamo parlando di quel prodotto cioè uno strategic non è non è altro che un benchmark certificate un tracker certificate con il sottostante che però è gestito attivamente quindi si va a posizionare tra una realtà simile etf una realtà come quella degli etf e una realtà come quella dei fondi comuni di investimento ma non c'è leva è una replica lineare di questo indice gestito attivamente quindi se l'indice sottostante fa più 5 il certificato fa più 5 al netto delle commissioni di gestione che potete vedere qui ecco tocca bene questo argomento perché sette domande sono praticamente sulla commissione di commissioni di gestione quindi ok la commissione di gestione come in tutti i tracker e strategic certificate la potete vedere 1 e 25 per annum quindi anche in questo caso ci posizioniamo come una via di mezzo tra etf e fondi comuni di investimento sarete abituati a costi molto più ridotti per gli etf ma i fondi comuni di investimento hanno costi significativamente anche significativamente più elevati noi ci posizioniamo con questo 1 e 25 per annum come viene pagato dall'investitore questo 1 e 25 per annum semplicemente viene fatto 1,25 diviso 365 giorni di calendario e questa piccola porzione viene dedotta alla performance dell'indice sottostante di giorno in giorno quindi non ve ne accorgete ma ogni giorno pagate un 365esimo di questo 1 e 25 e è così che viene pagata la commissione di gestione da parte dell'investitore un'ulteriore specificazione questo indice è negoziato in dollari il certificato è in euro e quindi c'è il rischio cambio ok e questa era un'altra delle domande allora quindi il certificato è questo ci dicevano oggi ho provato a comprarlo non sono riuscito dalla mia banca quindi ci dicevi prima ieri doveva partire in realtà è partito oggi ma come spesso accade lo ricordiamo per la gran parte degli intermediari poi la quotazione effettiva parte ancora il giorno successivo quindi diciamo dal lunedì adesso però c'è una bella domanda di antonio alla quale secondo me tu puoi rispondere facendoci vedere a questo punto anche un po' i titoli ovvero se mi sfugge come questo indice barra certificato possa essere ritenuto in grado di replicare in qualche modo l'andamento dell'inflazione cioè mi sembra che replichi un sotto insieme dell'azionario globale con una strategia discrezionale complessa la cui aderenza all'inflazione è tutta da dimostrare quindi questa è la provocazione che per la quale ringrazio antonio perché secondo me ci permette anche di entrare un po' e vedere un po' che c'è dentro no perché poi effettivamente il tema di questi strategic è che essendoci una gestione attiva dopodiché è chiaro che tutto dipende dalla scelta dei titoli che vengono messi dentro quindi andiamo a vedere sì allora intanto grazie per la domanda perché ritengo sia opportuno andarlo a sviscerare bene e per questo motivo intanto ci tengo a dirvi che questo lo potete fare tranquillamente anche voi non sono pagine interne di fontobel lo può fare chiunque quindi ripercorriamolo un attimo questa è la pagina del nostro sito potete in alto a destra inserire direttamente ancora più facile nella nostra home page c'è questo banner ci cliccate così si apre un articolo all'interno dell'articolo c'è questo product picker ci cliccate e si apre la pagina del prodotto ora qui c'è tutta la documentazione con la presentazione apriamo poi Jacopo ma io leggo in diretta mi dicono che non si riesce a scaricare il kid eventualmente sono verificate poi se ho già verificato siamo al corrente comunque il kid lo abbiamo inviato alle piattaforme che poi si occupano della dell'invio alle vostre piattaforme quindi è un problema nostro del sito ma verrà risolto sicuramente a brevissimo nero al corrente e grazie comunque che me l'avete ricordato quindi si apre la pagina del prodotto qui c'è tutta la documentazione qui c'è la presentazione che vi stavo mostrando prima aprendo una la documentazione come ad esempio le condizioni definitive e scorrendo c'è sempre una sezione che riguarda il sottostante eccolo underlying purtroppo le condizioni definitive sono solo in inglese ma all'interno del kid quando sarà disponibile troverete sottostante con questo icing copiate questo icing e poi potete accedere alla pagina indices punto fontobel punto com questa è il database di tutti gli indici che utilizziamo per i nostri strategic certificate quindi incollate l'aisin all'interno della ricerca indice e cliccate vi si apre una pagina dove ci sono le index guidelines in inglese e in tedesco ma le index guidelines vengono spiegate bene anche all'interno della presentazione in italiano c'è prezzo c'è performance giornaliera e successivamente c'è una parte importante che è questa index composition quindi la composizione aggiornata del paniere all'interno dell'indice sottostante quindi come potete vedere i nomi sono abbastanza importanti dalla dalla ponderazione che hanno li leggo li leggo rapidamente perché una delle curiosità era proprio capire cosa c'era dentro allora la ponderazione in questo momento assoluta che vuol dire in termini di pesi perché non è un equipesato essendo una strategia dinamica quindi c'è richmond tre e novantadue per cento poi c'è nestle circa tre per cento al al con sempre titolo svizzero roche novartis poi andiamo negli stati uniti con amazon e poi andiamo in giappone con la shion oggi dopodiché home depot general motors exxon mobile apple trend micro nexon e scendendo insomma titoli meno rappresentati ma comunque presenti insomma sono effettivamente tantissimi però i pri cioè sono sono numerosi anche perché se abbiamo comunque un peso massimo in questo momento del 3 92 che vuol dire che comunque almeno una cinquantina se non mi ricordo male per paolo sono cinquantasei ora lo vediamo meglio comunque sono cinquantasei questo già di per sé garantisce una diversificazione la selezione viene fatta con i criteri che vi ho menzionato prima quindi è una selezione di cinquantasei titoli o qualcosa di più insomma lo vediamo a breve di titoli di qualità con marchi forti con fondamentali forti diversificato quindi diversificato anche per settore anche geograficamente e poi rimodellato in base ai segnali di inflazione una cosa importante qui ci sono poi nomi importanti pepsi coca cola caterpillar target walmart verizon ebay insomma i nomi sono importanti ma per di per farvi tornare a quello che dicevo all'inizio siamo partiti dallo scenario 3 siamo partiti dallo scenario 3 perché questi ultimi 3 etf sono etf che replicano il bloomberg commodity index quindi sono etf con cui investire in commodity sono se non mi sbaglio all'incirca 9 commodity con pesi dati soprattutto a natural gas petrolio oro per il momento ho guardato la composizione brevemente nel pomeriggio però quindi già siamo partiti dallo scenario 3 ulteriore approfondimento poi fermami pure per paolo ulteriore approfondimento nella pagina investerest.fontobel.com voi potete semplicemente un attimo che sposto la finestra tramite search ero già nella pagina ma se scrivete inflation anche questo è un database con maggiori informazioni riguardo ai nostri indici qui c'è direttamente l'indice non il certificato quindi cliccate su fontobel inflation influenced index in usd quindi in dollaro e qui ci sono maggiori informazioni chiaramente le informazioni saranno più importanti quando il certificato sarà stato in vita da un po' di tempo quindi avrà corso un po' quindi qui le key figures le caratteristiche a livello anche le misure di rischio e rendimento lasciano un po' il tempo che trovano ma saranno importanti qui non trovate la completa location ma trovate la top holding che quindi riflettendo quello che vi ho appena detto il maggior peso ce l'aveva richmond al 392 chiaramente i tre più pesati sono gli etf al 666 non so se si vede la torta a destra perché ok perfetto qui potete selezionare in ogni momento quella che è la location per categoria quindi a tipologia di asset class all'interno del paniere e qui vediamo che abbiamo fondi per il 20 per cento come da terzo scenario scenario cash 3,2 anche qui una specificazione il cash non deve essere per forza in dollaro non deve essere per forza in euro ma ad esempio in questo caso lo avevamo visto prima c'era cash anche in valutazione componese quindi in questo momento è marginale ma anche la componente cash ha la sua importanza la diversificazione per settore la potete trovare qui e ritengo sia importante perché i settori che andiamo a toccare quelli più importanti sono quelli dei beni di consumo quindi beni di prima necessità e subito subito dopo eccoli beni di prima necessità health care consumer services quindi i servizi sono questo peso 21 15 quindi 36 e 15 51 un 51 per cento di questa torta è per settori di cui difficilmente si fa meno in scenari di elevata inflazione ma al di là di questo anche quando si toccano temi diversi come ad esempio la tecnologia c'è chi potrebbe pensare che la tecnologia andrebbe eliminata da un basket come questo per combattere l'inflazione in realtà se si vanno a selezionare poi oggi per paolo parlare proprio di tecnologia pura è un po difficile perché se pensiamo che amazon è un titolo tac ormai amazon non è un titolo tac però in questi settori siamo andati a selezionare i titoli e le aziende più forti dai punti di quelle anche quella quel nome quel marchio a cui facevi differenza esattamente esattamente qui c'è la suddivisione per paese che rispecchia esattamente le index guidelines di cui vi parlavo prima è proprio per la specificazione che facevo prima non è che bisogna mantenere il 60 60 15 15 10 come all'inizio anche in uno scenario come il terzo che stiamo vivendo oggi ad esempio gli united states proprio come conseguenza dei dati che stanno uscendo a livello di inflazione sono stati ridotti al 39,4 e ci tengo a specificarlo al 39,4 della componente equity quindi 39,4 dell'ottanta per cento perché attualmente il 20 per cento investito in etf commodity in ultimo currency tutte le valute su cui siamo investiti in questo momento detto che l'indice è in dollari e per l'investitore conta solamente l'esposizione con il dollaro ho cercato di essere un po il più breve possibile piero rubato un po di tempo d'altronde voglio dire se non parliamo delle novità d'accordo vedere poi i certificati sul secondario ma se c'è una novità bisogna anche parlarne allora direi eh prima di passare ad altro in questi ultimi dieci quindici minuti che abbiamo eh innanzitutto il codice ISIN del certificato perché l'abbiamo visto molto rapidamente ma ce lo stanno richiedendo il codice ISIN del certificato è questo quindi die tre zeri v x tre due quadro quarantadue poi vado un po adesso a riprendere le domande e dunque allora innanzitutto hai fatto diciamo così tornare alla sicuramente eh ad esempio quella quella AMC eh su su certificati che ci vede come advisor non ne parliamo mai mh o comunque in queste occasioni perché preferiamo dare spazio poi a tutte le altre novità ma dato che mi stanno chiedendo in molti ad esempio se possiamo fare dei commenti permettimi Jacopo per eh per dire che mh tempo due tre ore e partirà una una demo una comunicazione che annuncerà un webinar dedicato solo a questo che sarà in programma la prossima settimana quindi tutte le domande che riguardano questo prodotto che riguarda insomma il certificato dei certificati le potrete eh porre direttamente in questo webinar speciale dedicato solo a quel prodotto eh quindi così ho risposto a chi ha chiesto non rimane in evasa la domanda e e ci concentreremo in un momento dedicato poi ah scusami Pier mi sono ricordato di una domanda che avevano fatto come fate a sapere che replicherà l'inflazione allora intanto velocemente eh per dire ci abbiamo lavorato circa tre mesi abbiamo studiato le strategie abbiamo fatto back test di venti anni circa per andare a prendere anche periodi con inflazione di con con indicatori di inflazione diversi questo è un indice che stando al back test che sicuramente non è garanzia del futuro però sicuramente su qualcosa dobbiamo affidarci per lanciare un qualcosa eh è un prodotto che da venti anni negli scenari normali ha ridotto leggermente la volatilità dell'indice senza pregiudicare la performance ma con aumento di eh con aumento dei prezzi situazioni leggermente eh di inflazioni leggermente superiori a quella che è stata e che nel passato si è comportato molto meglio perché ha mantenuto i prezzi senza quei drawdown eccessivi che invece eh hanno avuto tutti gli altri indici quindi siamo soddisfatti del back test chiaramente non posso dirvi funzionerà funzionerà nel back test ha funzionato e quindi lo abbiamo lanciato ecco non so se questa domanda l'hai innescata tu però potete brevemente dire come saranno le performance del certificato ovviamente non quanto si guadagna lineari in base all'andamento del sottostante al netto del rischio cambio senza protezione praticamente esattamente esattamente ok e però invece questo al netto del rischio cambio e della commissione di gestione e della commissione di gestione ecco eh Davide a questo punto curioso la curiosità dice nei back test che performance hanno dato questi hai allora non ce l'ho qui perché abbiamo documenti interni però ora mi informo io internamente se riesco a portare un back test lo mettiamo direttamente lo mettiamo direttamente nel sito ah e comunque altrimenti chiamateci magari ne possiamo parlare al telefono ok l'ultima domanda la più difficile eh probabilmente sarà censito su tutte le piattaforme quindi ad esempio anche quella di BMP Paribas dove dove è noto ormai lo possiamo dire senza nessun tipo di segreto a volte c'è la difficoltà ad acquistare dei prodotti con sottostanti americani per quella che è la 871M ecco questo sarà un prodotto in scope come già sai qualcosa eh allora non l'ho controllato in database ma ritengo che sia un prodotto in scope eh quindi siamo consapevoli di quelle che sono le problematiche tramite due intermediari principalmente ci stiamo lavorando proprio per collaborare con loro per ovviare a questo problema cioè per metterci in mezzo noi eh e fare la sostituta di imposta in una situazione come questa però purtroppo purtroppo ancora nessuna novità nel momento ok quindi era spunto se già avevate pensato a questa cosa anche perché c'è effettivamente chi ci segue che vorrebbe acquistare ma come purtroppo noto eh in molte occasioni ha questa difficoltà va bene allora io direi che possiamo considerare allora eh mi vorrei fermare ma poi continuo ad arrivare quindi cosa ci si attende da questo certificato solo una protezione cioè è considerato un prodotto difensivo prudente quindi cioè l'idea dovrebbe essere quella di difenderci dall'inflazione quindi inflazione al cinque questo fa cinque ci protegge l'inflazione o o o allora come come dicevo non non è un un indicizzato all'inflazione quindi non so come un un bond indicizzato all'inflazione che compensa la cedola con rispetto a quello che è l'inflazione verificata sì questo è un prodotto che va se è equiti è un prodotto equiti azioni che quindi eh investe in azioni siamo esposti in azioni siamo andati a selezionare quelle azioni che potrebbero però essere più resilienti in contesti di elevata inflazione quindi non segue l'andamento dell'inflazione stessa ma vuole dare esposizione verso quei titoli che potrebbero non soffrire o addirittura beneficiare da contesti di elevata inflazione e quindi è è proprio come dicevo all'inizio è la prima volta forse che andiamo a proporre qualcosa di questo tipo è un investimento inteso per il mantenimento in portafoglio chiaramente perché un open end e per il mantenimento in portafoglio anche con per percentuali leggermente superiori a quelle dei mega trend o dei micro trend che sono fatti invece più in ottica di diversificazione perché ricordiamocelo in uno scenario di base questo è essenzialmente un msc world che teniamo in portafoglio con focus sul potere di determinazione dei prezzi quindi su aziende qualitative con un marchio molto forte che magari potrà peccare leggermente in performance sicuramente sarà migliorativo in termini di volatilità e drawdown però è un prodotto da tenere non non è un prodotto che si compra in situazioni di volatilità di 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 inflazione elevata e poi si vende o si può anche fare però proprio per lo scenario zero lo scenario fatto per la bassa inflazione è un prodotto che può essere mantenuto in portafoglio anche con pack ad esempio in ottica di pack non è incredibile hai parlato hai detto la parola ma che è arrivata la domanda di luca può essere indicato per un pack questi sono tutti quelli quelli con cui parlo il pomeriggio che gli chiedo rifarmi le domande può essere indicato per un pack effettivamente noi appena la logica può essere anche questa perché poi essendo uno strumento lineare senza scadenza esattamente come può essere una etf che si presta comunque la costruzione i pack così come i fondi con la differenza che rispetto alle tf c'è una gestione attiva io veramente qui mi fermerei solo con una considerazione finale che hai fatto benissimo a ricordare nella risposta alla domanda sull'aspetto delle aspettative ricordando che comunque una gestione azionaria e questo lo voglio ricordare perché ricordo in passato ma parliamo nel lontano duemilasei duemilasette e usci sul mercato il primo certificato sull'acqua e venne considerato tra l'altro anche il primo il certificato dell'anno ai primi certificate awards eccetera eccetera allora cosa chiaramente il tema era l'acqua però dentro c'erano titoli azionari non è che si investiva sull'acqua investivi su titoli azionari operativi nel settore idrico quando questo prodotto è nato nel duemilasette quando è arrivata la crisi del duemila e otto è crollato tutto è evidente che anche quei titoli lì sono crollati perché il mercato è crollato a 360 gradi quindi è naturale che non è che se il settore dell'acqua funziona però questo indice rimane alto ecco in uno scenario di shock naturalmente è un azionario pertanto andrà giù anche 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 le varie amazon e coca cola durante il covid hanno perso quello che hanno perso quindi è un'esposizione azionaria di fai bene a ribadirlo è un'esposizione azionaria che dovrebbe funzionare almeno bene quanto le altre in base al back test sempre niente garanzie per il futuro ma dovrebbe funzionare almeno bene quanto gli indici globali diversificati noi facciamo un focus su brand margini fondamentali per cercare di rosicchiare un po' di più sia a livello di volatilità minore che di performance ma nei momenti di inflazione tramite questa strategia che ci permette di muoverci immediatamente grazie alla gestione attiva e discrezionale e soprattutto di muoverci anche su altre asset class in back test siamo riusciti a sovraperformare anche di molto nei momenti di inflazione bene e qui direi che ci possiamo fermare mi prendo il monitor perché così vi faccio vedere invece qualche idea selezionata sul secondario che poi in qualche modo lo vedremo per i settori di appartenenza non si discosta neanche troppo dal dal tema dei temi che abbiamo trattato e quindi anche da quelli che sono gli scenari inflattivi quindi io direi li vado a commentare il tempo a disposizione purtroppo ormai è rimasto pochissimo quindi andrò un po' rapido per farne vedere almeno tre e partiamo dal primo è una struttura semplice in questo caso quindi cash collect memory il certificato è stato emesso nel mese di ottobre quindi il 20 ottobre con una durata biennale qual è il tema in questo caso le materie prime quindi quando si parla di scenari inflattivi sappiamo comunque e lo abbiamo già visto in quello che hai anche rappresentato come in questo momento nel terzo scenario comunque ci sia un investimento sul tema delle materie prime delle commodities e quindi qui abbiamo un basket composto da Freeport McMoran Anglo American e Boliden sono comunque tre aziende operative nel settore dei metalli quindi rame e metalli e questo è la situazione attuale del basket dove vediamo due titoli positivi intorno al 4% e solo Freeport McMoran leggermente negativa meno 018 date di osservazione cedole trimestrali del 3 e 09 con effetto memoria prima data utile quella del 18 gennaio dove si potrà incassare solo la cedola mentre a partire da aprile quindi dal trimestre successivo si inizierà a verificare anche la condizione per il rimborso anticipato quindi in uno scenario che ci dovesse accompagnare almeno per la prima metà del 2022 prima magari di un cambiamento di tendenza quindi in questa inflazione transitoria ma non così transitoria potrebbe potrebbe ripeto sempre dobbiamo usare il condizionale questo tema delle materie prime potrebbe essere comunque ancora agevolato e quindi oggi si acquista a 99 e 40 naturalmente lunedì a 99 e 40 potenziale rendimento di oltre il 6 per cento ad aprile eh se si va in auto call viceversa se non va in auto call si continuano ad incassare le cedole e questa è l'analisi di scenario a scadenza quindi prodotto che quota sulla lineare quindi praticamente cosa vuol dire se il sottostante peggiore perde il 40 per cento si perde il 39 e 75 senza considerare cedole eventualmente incassate nel frattempo quindi come se non se ne incassasse neanche una viceversa se tutto funziona e si arriva a scadenza con il worst off sopra barriera rendimento del 25 e 47 ovvero 13 e 59 su base annua ci chiedono il codice ISIN DE30VX 2 Empoli Hotel Firenze 7 vado piano perché così potete segnare quindi il primo bel basket a mio avviso anche molto ben contestualizzato certificato di caratteristiche semplicissime ma con rendimento importante 3 e 09 su base trimestrale e quindi si arriva a un 12 per cento abbondante su base annua questo è il primo Jacopo interrompimi se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti vado avanti vai vai ho parlato abbastanza io vai pure tu ok allora il secondo che vado a ricaricare semplicemente perché così abbiamo il prezzo eccolo qui il prezzo rilevato in chiusura il secondo è una struttura che io apprezzo molto è la struttura del decreasing coupon così come da noi viene denominata o step down come viene chiamata magari in un po in circolazione ma per far per capirci è quella struttura che prevede che i premi vengano pagati a condizione che il sottostante rispetti un livello che scende nel corso del tempo in particolare prima di vedere i titoli vediamo lo schema tra l'altro questo è uno dei livelli di partenza più bassi che ci siano tipicamente cosa abbiamo abbiamo certificati dove il primo livello parte magari al 70 e poi scende fino ad arrivare anche a 25 o 30 e durano 4 o 5 anni quindi invece abbiamo una durata massima di due anni in realtà meno perché scadrà a settembre 2023 prima data la condizione per il pagamento della cedola del 3,90 e qualche decimale era il 50 per cento quindi parte subito con 50 per cento e scende del 2 per cento a trimestre quindi vuol dire che l'ultima data quella di l'agosto 23 verrà pagata la somma delle varie cedole a condizione che il peggiore tra i titoli sia almeno al 36 per cento del strike iniziale quindi vuol dire anche se ha perso il 64 per cento per quello che riguarda invece il capitale rimane fermo sul 50 per cento cioè vuol dire se arriviamo a scadenza il worst off è sopra il 50 per cento rimborsa capitale e paga tutte le cedole se sotto il 50 viene invece pagato una porzione di capitale più eventualmente le cedole se è sopra il 36 per cento ok tra l'altro andiamo a vedere i sottostanti non a caso sono sottostanti molto volatili perché dico non a caso perché per costruire strutture del genere dove c'è la necessità di incassare i premi anche a fronte meno 60 meno 70 bisogna ricorrere a titoli un po più volatili quindi abbiamo novavax e biontech titoli che possono spaventare per chiaramente per la loro volatilità ed è anche giusto perché sono esempio novavax torta settimana in un giorno ha fatto più 28 per cento poi il giorno dopo perso il 7 quindi si balla però grazie a questo meno 64 per cento a scadenza c'è la possibilità di poter avere questa analisi di scenario da adesso ovvero se si acquista a 760 ecco questa forse era una cosa che andava anche un po specificato il prezzo molto sotto la pari quindi 760 euro se si acquista a questo prezzo c'è un rendimento potenziale del 67 per cento fino a meno 27 per cento di novavax da adesso tra l'altro non sta a me adesso mettere in ballo tutte le considerazioni sui sottostanti anche se può essere utile però novavax sapete che sta attendendo la il via libera per il proprio vaccino che dovrebbe essere comunque utile anche per quello che si è detto anche per le varianti e quindi potrebbe ripeto essere un titolo che magari non crollerà dopodiché la struttura è stata pensata proprio anche per far fronte a questo tant'è vero che a meno trenta da adesso comunque si perderebbe solo il cinque ma consideriamo meno trenta da adesso dove il titolo ha già perso il 30 rispetto all'emissione quindi si aggiungono altri trenta punti diacopo su questo c'era qualche altra particolarità no nel senso qui rispetto a tant'è già fatta la differenza non arriva così in basso perché abbiamo delle soluzioni che arrivano fino al quindici venticinque per cento eh una particolarità che nei nostri decrisi in coupon fisiologicamente non troverete quasi mai titoli dello stesso settore eh invece in questo caso stiamo parlando di 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 farma perché la volatilità ce lo consente eh ma al di là di altre particolarità al di là di altre caratteristiche direi che è in linea più o meno con con la filosofia nostra per i decrisi in coupon ok codice Aisin di e tre zeri VX zero zero a Y3 ok poi rapidamente e poi chiudiamo l'ultimo che volevo farvi vedere anche se c'era un airbag che c'era stato segnalato da Dino che in cui in realtà di cui abbiamo già parlato anche nel precedente appuntamento e quello sempre su titoli farmaceutici Illumina in particolare è un bel l'airbag che quota in questo momento in area 80 nonostante il sottostante non sia troppo lontano allo strike quindi c'era qualcos'altro da vedere però vi faccio vedere quest'ultimo intanto vi do il codice Aisin di e tre zeri VX 1 L Y Y Z 7 è un cash collect memory qui il motivo per cui comunque ho voluto farlo vedere nonostante sia siamo un po' fuori dagli orari è per il tipo di basket che anche richiama quanto detto a proposito di la scelta dei titoli dei marchi forti della eh del pricing power della possibilità di rimanere in un basket anche in uno scenario inflattivo è vero ci sono dei consumi che andranno meglio altri che andranno peggio il lusso comunque sappiamo che è un tema che in certi scenari funziona a prescindere basket composto da Barberi Ugo Boss Louis Vuitton e Kering e basket in questo momento totalmente positivo anche se a coppie praticamente sono perfettamente allineati Louis Vuitton e Kering più 14% Barberi e Ugo Boss più 1% circa quindi sono positivi ma veramente basta un soffio per farli andare eh farli andare sotto qui abbiamo data di osservazione la prima utile anche per il rimborso anticipato a fine anno 29 dicembre e eh se tutti i titoli saranno al di sopra rimborso di 100 più il coupon dell'107 prezzo ultimo di oggi 99 eh questo bello devo dire perché perché si possono fare due punti da qui a fine anno a condizione che i titoli rimangano tutti positivi se non dovesse essere così si incassa la cedola trigger cedola 65% ed è una cedola dell'uno e 07 al mese quindi anche guardandolo in ottica della scadenza questa è l'analisi di scenario e questo è l'ultimo dopodiché visto che ho creato la curiosità mi prendo eh a questo punto l'onere di far vedere anche l'ultimo che giustamente dice ce ne hai parlato faccelo vedere e quindi l'ultimo eh questo cash collect memory airbag quotato in questo momento 81 euro i sottostanti sono Illumina Novavax e Biontech dove Novavax e Biontech li ritroviamo sono quelli precedenti in questo caso sono tutti e due ben positivi Illumina negativa meno 6 e 70 tra l'altro è anche quella con la volatilità più bassa tra le tre e certificato che ha mancato il rimborso anticipato nella data di osservazione del 29 novembre ma ha pagato regolarmente la sua cedola adesso il prossimo appuntamento è 25 febbraio se recupera lo strike anche Illumina rimborso anticipato 100 più coupon dell'1,6 altrimenti continua a pagare le cedole del 1,6 al di sopra della barriera del 60 quotazione 81 euro prezzo eccolo qui e quindi questa è l'analisi di scenario e certificato che naturalmente attira un po' di interesse eh e Gianni ecco il codice ISIN di e tre zeri V quadro settanta quattro Y Y due va bene fermiamoci Jacopo direi che abbiamo abbiamo dato materiale abbiamo dato molto materiale esatto allora se ci sono domande naturalmente vi ricordo di poter contattare qui ci sono i contatti di Fontobel quindi numero verde risponde Jacopo risponde il team se avete bisogno potete mandare una mail per scaricare tutto il materiale direttamente da qui tra l'altro era arrivata anche una domanda su questo tracker che sta passando adesso eh che sta passando quello sullo skin care skin care eh esatto era arrivata anche una domanda per quello però vabbè non ce l'abbiamo fatta scriveteci scriveteci a certificati chiocciola Fontobel punto com esattamente benissimo Jacopo grazie e mi sa che ci siamo abbiamo finito per il duemilaventuno eh eh sì eh sì quindi buone feste a tutti grazie ancora e buona serata e buon weekend a tutti a te ciao Jacopo buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti